Ciao a tutti amici di Volonbrite, siamo sempre qua al Palatazzoli per la quarta e penultima giornata del torneo internazionale di Parais Hockey. Abbiamo qui con noi il capitano Gianluca Cavaliere della squadra. Chi sperate di trovare domani in finale? Ma no, non è che speriamo. La finale è sempre da giocare. Diciamo che noi con la Norvegia forse è più bello giocare perché è un po' più ok, è un po' più tattico, è un po' più studiato, è un po' più difficile, è un po' più impegnativo. Quindi per noi è più bello. Anche se comunque sappiamo che la Corea è un po' più avanti fisicamente, gioca un luogo un po' diverso, hanno più bilaterali. Quindi sono tutte e due squadre belle da giocarci assieme. Ok. Oggi la squadra aveva delle new entry. Come è stata la partita? Come hanno giocato? E che prospettive ci sono per il futuro per una squadra così? Oggi stai parlando dei giovani. No, vabbè, i giovani l'hanno già dimostrato anche dall'inizio del torneo che comunque sono cresciuti man mano facendo le partite. È normale che quando arrivi qua sono le prime partite che fai a questo livello. Anche noi per dire la prima è stato un po' un rodaggio perché era per le impiedi che non giocavamo più come squadra. E quindi infatti si è visto, no? Poi preso un po' di nuovo gli automatismi, il ritmo e l'intensità che c'è giocando con le squadre nazionali, pian piano sono migliorati. Ok. Grazie mille. Ancora complimenti e bocca al lupo per domani. E crepi. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti